Ciao a tutti sono Mauro Espulla, responsabile tecnico della Blackbird Racing. Abbiamo realizzato questo video per aiutare ciascuno di voi ad applicare in maniera corretta le grafiche sulla vostra moto. Seguendo passo per passo questo video il lavoro sarà per voi un semplice divertimento ottenendo un ottimo risultato. Per prima cosa bisogna rimuovere le vecchie grafiche e pulire accuratamente le plastiche. Per fare questo potete utilizzare uno straccio in cotone pulito ed un normale sgrassatore oppure anche acqua e sapone. Pulite accuratamente tutta la superficie delle plastiche anche nei punti nascosti. Quando togliete le vecchie grafiche potrebbe rimanere sulle plastiche della colla residua. Per togliere questa colla e sgrassare in maniera perfetta le plastiche potete utilizzare il nostro Spray Stickers Preparation. Questo prodotto è stato appositamente studiato anche per migliorare l'adesione delle grafiche che applicherete successivamente. Le grafiche vanno rimosse in maniera molto lenta. Come potete vedere già alcuni residui rimangono applicati alla plastica. Questo lavoro prevede molta pazienza e molta precisione. Ricordatevi di pulirvi molto bene le mani prima di toccare l'adesivo. Prima di aprire la confezione, controllate che sull'etichetta ci sia scritto il vostro modello di moto. Successivamente potete aprire la confezione e posizionare tutti gli adesivi in maniera ordinata. Solitamente le grafiche sono dotate di una pellicola protettiva trasparente. Questa pellicola va rimossa prima dell'applicazione degli adesivi. Adesso possiamo cominciare l'applicazione della nuova grafica. Ripiega un lembo della carta siliconata sul retro della grafica in questa maniera. Fai attenzione a non toccare con le dita la colla sul retro dell'adesivo. A questo punto puoi posizionare la grafica facendoti aiutare dai fori e dalle linee delle plastiche. L'applicazione può essere fatta in questa maniera. Ricordatevi di attaccare sempre prima su una linea orizzontale e poi su una linea verticale. Il crystal adoperato dalla Blackbird Racing è un crystal molto morbido. Riuscirete quindi a modellarlo in tutte le posizioni. A questo punto la grafica risulta perfettamente applicata. Per migliorare l'adesione e cercare di farvi durare nel tempo molto di più la grafica è sempre consigliabile scaldarla con un foam. Tenere il foam a una distanza di circa 10-15 cm dall'adesivo. Aiutarsi con la mano schiacciando l'adesivo sulla plastica. Adesso, come vedete, la grafica è perfettamente applicata senza nessuna bolla d'aria. Prima di usare la moto è consigliabile però aspettare almeno 24 ore, che è il tempo necessario affinché la colla aderisca al 100%. Potete dire anche voi, I am with Blackbird.